e ora cedo volentieri la linea al nostro inviato spaziale che se non erro è sul lago di Como grazie della linea TG Wild come potete vedere alle mie spalle siamo a Como sul lago di Como sono qua per darvi una notizia sensazionale per uno scoop incredibile pensate che in questo momento in questo posto non sta succedendo niente ma proprio niente niente come potete vedere proprio calma piatta grazie della linea e a te la linea TG Wild certo continua pure a portarmi via del tempo gravi